L'International Filmmaking Academy è stata fondata da Gianni Tori Obaldi, regista e produttore di Pasolini, Godard Bresson, insieme ai direttori di scuole di cinema di 20 paesi. Formiamo un'officina di registi emergenti da tutto il mondo, al fianco di premi Oscar e i grandi registi contemporanei, con i quali vivono una reesperienza di vita indimenticabile. Abbiamo ospitato Bernardo Bertolucci, Abba Scherostami, Bella Tar, Jane Campion e quest'estate verrà John Landis. Con il nostro progetto sulle tracce degli autori rivoluzionari, alla scoperta dei maestri del cinema attraverso la loro terra d'origine, uniamo tre generazioni, il patrimonio dei maestri del passato attraverso i maestri del presente per formare i maestri del futuro. Bologna e Pasolini, Rimini e Fellini, Parma e Bertolucci, Ferrara e Antonioni. Cominciamo con Paul Schroeder a Rimini, uno dei padri fondatori della nuova curriculum. Scenaggiatore di Martin Scorsese, noto per i capolavori come Tassi Driver e Toro Scatenato. Cerchiamo 20 talenti da tutto il mondo, che non solo scopriranno il patrimonio italiano, ma loro stessi, la loro autenticità e la loro poesia. Scenaggiatore di Martin Scorsese, noto per i capolavori come Tassi Driver e Toro Scenaggiatore di Martin Scorsese, noto per i capolavori. Scenaggiatore di Martin Scorsese, noto per i capolavori come Tassi Driver e Toro Scenaggiatore di Martin Scorsese, noto per i capolavori.